Quali saranno i primi interventi la città metropolitana farà per i comuni terremotari? Non sono i primi, noi siamo venuti a raccontare quello che stiamo facendo dal primo minuto della tragedia del terremoto, duverosamente ad ascoltare eventuali altre proposte, sin dal primo momento abbiamo messo in campo per quello che è di nostra competenza mezzi, risorse ed energie per le strade, per l'edilizia scolastica, per le coste e anche l'ho fatto per i mezzi di protezione civile pure come sindaco del Comune di Napoli pur non avendone competenza. Però devo dire che l'impegno che c'è sul campo da parte nostra, la sinergia con tutte le istituzioni e con i sindaci locali ci fa dire che tutto quello che può essere messo in campo sarà fatto e la nostra priorità sono il ripristino di tutti gli assiliari e soprattutto consentito delle scuole, perché già prima c'era un impegno nostro fortissimo, adesso insieme anche al commissario architetto Rimaldi e tutti gli altri cercheremo di fare in modo che una tragedia come questa, una crisi possa far sì che non si viva per troppo tempo in sopravvivenza, ma che addirittura ci possa essere un miglioramento di un'edilizia scolastica è stata sempre abbastanza sofferente in quest'isola. Io venne qualche mese fa a inaugurare il Memnella, ebbi un'impressione straordinaria di quella scuola, quindi questi ragazzi e questa comunità scolastica meritano il massimo impegno e noi da parte nostra faremo di tutto perché questo possa avvenire bene e in tempi rai. I dirigenti scolastici hanno specificato nel corso dell'incontro che è necessario sì ripristinare le aule, ma ripristinare soprattutto i laboratori, che sono quelli che poi danno specializzazione a questi ragazzi. Ed è assolutamente giusto, e quando mi riferivo all'edilizia scolastica mi riferivo alla scuola, non come scheletro semplicemente di edificio, ma tutto, e qui è importante anche l'impegno che ha preso il Ministero, con quei 6 milioni circa di euro che servono anche proprio per l'attività che diceva lei. Quindi quando parliamo di un efficientamento al massimo di edilizia scolastica non pensiamo solo agli interventi di messa in sicurezza e di ricostruzione, ma di efficientamento del livello che meritano le scuole. Io posso dire che nell'ordinarietà, quindi indipendentemente dal terremoto, come sindaco della città metropolitana, pur in un momento di crisi economica, abbiamo messo in campo la più alta quantità di risorse che l'edilizia scolastica dal tempo del remoto dell'80 da Meluto. Quindi a maggior ragione questo impegno ci sarà laddove c'è stato un evento sismico così duro per l'intera isola e soprattutto per i comuni di Casamiccio e Laccamino, anche fuori io, ma se parliamo di scuola, soprattutto Casamiccio e Laccamino, ma deve essere anche l'occasione per affrontare il tema di Ischia, che voi conoscete benissimo sul territorio, del tema delle aule presso il Tribunale, quindi noi faremo il massimo e ci auguriamo che anche gli altri facciano il massimo, perché poi alcune strutture sono di proprietà comunale, sono di proprietà privata o sono proprietà dello Stato, come nel caso del Tribunale. Quindi noi cercheremo di fare il massimo, tutti devono fare il massimo e sono convinto che questo accadrà. Si possono prevedere dei tempi per quanto riguarda lo scioglimento del nodo polifunzionale? Lempi non li do, perché il tempo che il Sindaco deve dare è il massimo impegno, l'Agracessitra non l'abbiamo, quindi il massimo impegno dal primo momento ogni giorno H24, come vedete sono venuto con i due consiglieri metropolitani delegati, quindi tutte le forze politiche stanno sul pezzo, c'era il capo dell'ufficio tecnico, c'era il direttore generale, vi posso assicurare che sin dal primo momento e volutamente, voglio ribadire ai vostri microfoni quello che ho detto al tavolo, sono venuto con qualche giorno di distanza, perché la vicinanza professionale, istituzionale, amministrativa, spirituale e con il cuore è stata dal primo momento, ma io sono un uomo che preferisce essere presente sempre e soprattutto nel momento quando altri arretrano, quando le telecamere si allontanano un pochino e quando invece l'emergenza è ancora sul posto. Quindi oggi la mia presenza è per far dire che la città metropolitana, il comune di Napoli, la città di Napoli, quindi il capoluogo della regione Campania, non lascerà solo nemmeno per un giorno l'isola d'Ischia e in particolare i comuni interessati e in particolare le famiglie e gli abitanti che sono stati più duramente colpiti e per quello che è di nostra competenza la comunità scolastica. Il sindaco, lei nel suo intervento ha parlato, forse che di materie di sua competenza come le scuole e l'asse Piani, ha parlato anche dell'immagine dell'isola d'Ischia che qua deve essere ricostruite, ha detto che in questa città metropolitana darà una mano all'isola. Ma noi ci saremmo, anche io sarò fisicamente in un'iniziativa proprio culturale, il primo ottobre sera nell'isola perché è importante che tutti capiscano che quest'isola vive, quest'isola ha avuto un terremoto come accade in altre parti del mondo ma che ha ripreso la sua vita ordinaria e che la ricchezza di quest'isola è straordinaria e che la forza di quest'isola è la cultura, il turismo, le energie umane. Noi siamo legatissimi a quest'isola e quindi dimostreremo con la nostra presenza che si può venire tranquillamente, non bisogna generalizzare, che ci siano temi di abusivismo all'isola e nell'isola sappiamo, come ci sono a Napoli, come ci sono nel centro Italia, nel nord Italia, nel sud Italia, ma mai generalizzare, questo è un errore, così mai minimizzare. Bisogna affrontare in modo concreto e non astratto le questioni che si pubbano, così come importante, l'azione della magistratura che mi auguro ovviamente con rapidità ma con la competenza e la professionalità che ha la magistratura di Napoli in piena autonomia e indipendenza accerterà anche eventuali responsabilità che ci potranno pure essere, perché poi non ci dimentichiamo che sono morte delle persone, sono stati danni gravi e non ci dimentichiamo però che c'è stato un terremoto forte, non tanto come intensità ma come vicentro che è stato proprio nel cuore del Comune, quindi questo è un po' il quale.